Grave episodio di violenza si è verificato all'ospedale di La Mezzeterme, dove il primario del pronto soccorso, Rosarino Procopio, è stato aggredito da un familiare di una paziente che stava per essere dimessa dall'osservazione breve e intensiva. Durante il colloquio Procopio spiegava che il percorso clinico era concluso e la paziente poteva tornare a casa con terapia prescritta. Uno dei presenti ha iniziato ad inveire contro il medico, opponendosi alle dimissioni. Quando Procopio si è girato per rientrare in ufficio, l'uomo lo ha colpito alla schiena con un manganello nascosto sotto il giubbino. Sul posto sono intervenuti il personale di sorveglianza e gli agenti della polizia già presenti per altri servizi. L'aggressore è stato bloccato e ora sono in corso accertamenti su quanto accaduto. L'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha espresso solidarietà al medico, annunciando tutela legale e costituzione da parte civile. Un'aggressione premeditata è inaccettabile, non ci sono giustificazioni per chi entra in ospedale armato per imporre un abuso con la violenza, si legge in una nota stampa. L'episodio li chiama l'urgenza di misure severe contro le aggressioni al personale sanitario, un problema che mette a rischio sia operatori che pazienti.